In giro per i vari quartieri della città sono a San Donato, frazione di Talsano, comune di Taranto e voglio rappresentarvi una situazione incredibile. Guardate, questa è la fermata del capolinea dell'AMAT, precisamente con riferimento alla linea bus numero 23, in aperta campagna, vedete, in campagna, quindi una persona sta qui e in piena campagna, tra l'erba, i ratti e sporcizia varia, discariche a cielo aperto che per fortuna sono state da poco rimosse, più avanti si vede anche un materasso, ma io penso che sia davvero incredibile, folle, pazzesco, offensivo della dignità dei cittadini collocare una fermata nella terra, nella campagna. Non c'è una pensillina, nulla, ma neanche per sogno, quindi se una persona sta qui, piove, cosa fa? Si mette l'ombrello? Aspetta? Questo è il fallimento politico-amministrativo dell'amministrazione Melucci e ci sono gravissime responsabilità, incapacità operative da parte dell'AMAT, chiamatela come volete, Chima Mobilità, AMAT, giochiamo sui nomi, ma la realtà è sempre questa. Si dà un servizio penoso, vergognoso al cittadino. Hai capito, Giorgia Gira, presidente del CDA dell'AMAT? Avete capito, signori consiglieri di amministrazione dell'AMAT? Lo avete capito che questo è uno schiaffo alla civiltà, è uno schiaffo alla dignità dei cittadini? Oltretutto la collocazione qui di questa fermata del Capolinea è assolutamente infelice perché risulta assolutamente decentrata da via San Donato, laddove c'erano prima le fermate e quindi essendo molto distante diventa un problema per gli anziani, per le mamme con la carrozzina che vanno a fare la spesa. E' assurda una cosa del genere. Parlate tanto, vi sciacquate la bocca, signor Melucci, dirigenti e componenti del CDA dell'AMAT. E poi abbiamo questa vergogna, questa è una vergogna, è uno schifo, un autentico schifo. Ma è possibile che io cittadino devo aspettare qui quando piove? Immaginate anche d'estate. Questa è Taranto, questa è la rinascita che Melucci dice di aver seminato, dice di aver fatto cento cose, sì e no se ne ha fatte dieci. Ma io posso fare l'elenco del miliardo di cose non fatte. Il cittadino paga le tasse, il cittadino paga il biglietto per avere che cosa? Questa schifezza? Meditate cittadini, per questo ho deciso di candidarmi sindaco. Partendo innanzitutto dall'ascolto della base, la base, i cittadini, occorre fare un'indagine appunto conoscitiva nelle varie aree e capire zona per zona dove sono le criticità, non stare rinchiuso a palazzo di città. Nominerò un CDA dell'AMAT di tecnici, puramente tecnici. Basta con i politici, amici degli amici, frutti di accordi elettorali. Questi accordi producono questi risultati e il cittadino paga, paga e paga. E al cittadino poi si ha pure il coraggio di chiedere il voto.